Grazie a te e chiedo scusa per quel poco che ho fatto che... Grazie, ma sei un ballerino fantastico! E come no! Eravamo io, Beppe Savoldi, Paco Pegna e Toghigno... Che bello, che bei momenti! Ma io adesso ti lascio ai tuoi ospiti, buongiorno, benvenuti... Senti, tu come... Mi rasguisci... Quest'anno le ferie non le fai... No, le facciamo insieme, io e te qui... Ecco, ma quando prenoti, prenoti online oppure... Pronto, sono serena, che c'è? No, online... Allora, seguici con attenzione, perché online abbiamo due ospiti che vado a presentare... Luisa Massaro, capo della Polizia di Stato, commissario capo della Polizia di Stato... Buongiorno e benvenuti, adesso diventiamo un po' più seri... Il nuovo capo del servizio Polizia Postale e Andrea Polo, esperto di consumi, perché parliamo di truffe online... Oddio! Tu pensi di affittare una casa... E ho fatto un errore grande! Tu pensi di affittare una domanda? Non sempre, però... Non sempre, giusto... Non sempre, nella maggior parte dei casi può essere... Però io adesso vi ascolto con molta attenzione... Grazie... Un abbraccio... Attenzione al click, grazie... Allora, dietro al click e caro Polo possono esserci truffatori... Minacce, di che fenomeno parliamo? Ci si può fidare sì o no? Allora, ci si può fidare sì, a patto di mettere in atto alcune azioni di buona creanza web, diciamo così... Parliamo di un fenomeno che comunque è importante, perché soltanto negli ultimi 12 mesi... Le persone che sono finite vittima di una frode o di un tentativo di frode attraverso una vacanza, diciamo così, prenotata, sono quasi un milione... E quindi, insomma, il fenomeno incomincia ad essere decisamente rilevato... I media quant'hanno perso a testa? I media hanno perso poco più di 300 euro, ma se sommiamo questo al numero complessivo... Moltiplichiamo, scusate, per il numero complessivo di frodi arriviamo a 100 miliardi di danno, per cui un bel po'. 100 miliardi? Non milioni, miliardi? Milioni, milioni. Milioni? Ah, infatti dico 100 miliardi... Sono ancora fasato sulle lire io. No, ma guardi, tanto il caldo... No, sono 100 milioni di euro. Siamo tutti vittime del caldo, oltre che dei truffo... Sono tanti, ma non così tanti. Dottoressa Massaro, quali le truffe più comuni e curiose? Abbiamo individuato diverse tipologie, diversi schemi. Ad esempio il proprietario che va all'estero, quindi, a seguito del primo contatto con questo proprietario tramite una piattaforma, lo stesso dice di non poter mostrare l'appartamento all'utente direttamente. Quindi le trattative si svolgono tutte a distanza. Questo è il preludio della richiesta di un bonifico internazionale. Quindi che cosa succede? Dopo aver richiesto i documenti di identità all'utente e dopo aver riproposto diverse bozze di contratto, lo induce a concludere il tutto entro 24 ore. Dopo il bonifico sparisce. Questa è una delle tipologie... E anche la casa sparisce, che probabilmente non c'è mai stata. Quindi c'è un problema informatico. Poi ci sono link a siti falsi. Dei siti clone. I siti clone, sì, assolutamente. Dei siti che ripropongono in maniera assolutamente identica i siti originali, che quindi inducono gli utenti a fidarsi e inserire dati sensibili, dati personali e dati bancari, soprattutto. Diciamo la verità, senza cadere nell'apologia di reato, sono molto bravi, ma voi della Polizia Postale siete ancora più bravi. Tra l'altro lei è responsabile dello sportello della Polizia di Stato per la sicurezza degli utenti web. Il commissariato IPS online, in particolare. Come aiutate i cittadini a non cadere nella trappola delle troffe? Il cittadino, consultando il nostro sito, può consultare, può leggere gli alert e gli approfondimenti che costantemente pubblichiamo. Sono quindi delle piccole pillole che servono per aprire gli occhi e per mettere in atto delle piccole strategie per individuare degli annunci che possono essere fasulli. Inoltre, sempre attraverso il sito, è possibile richiedere ulteriori informazioni, ad esempio nel momento in cui si è intenzionati a acquistare un prodotto o nel caso delle case vacanze, appunto, iniziare una trattativa. E in aggiunta, è possibile segnalare fatti e fenomeni che vengono sul web. Quindi richiedere un supporto ai poliziotti della Polizia Postale. Bravi. Paolo, allora, cosa dobbiamo curare quando vogliamo prenotare una casa online? O anche un viaggio, un biglietto? Tanto non bisogna avere fretta, come prima cosa. Bisogna verificare tutte quante quelle che sono le caratteristiche dell'annuncio, perché poi, tra l'altro, abbiamo da poco fatto un'indagine e molte delle truffe avvengono anche attraverso dei meccanismi molto tradizionali, anche il cartello standard su strada. Allora, facciamo un elenco. Scegliere solo siti affidabili. Come si fa a capire se un sito è affidabile? Intanto deve essere un sito noto e riconoscibile e soprattutto un'attenzione particolare va data all'indirizzo, che non deve essere un semplice HTTP, ma HTTPS. Quella S è indice di una tecnologia di sicurezza che protegge noi i nostri pagamenti. Pagamenti tracciati, cioè? Cioè, spesso e volentieri, pagare con carta di credito, ad esempio, è molto più semplice e molto più utile, perché permette anche di disconoscere il pagamento. Mettere i soldi in contanti in una busta chiusa non è una buona idea. Politiche di cancellazione. Verificare quali sono le azioni che noi possiamo intraprendere dentro quando noi possiamo eventualmente disdire la vacanza senza incorrere in nessun genere di penale. Se ci viene rifiutata la penale fin dall'atto della prenotazione, incominciamo a guardare con sospetto quell'annuncio. Mi dicono anche la conferma diretta dei fornitori di servizi, però lì è già un po' più difficile. In realtà è più semplice di quanto non si possa pensare e, ad esempio, con consumerismo abbiamo verificato che spesso le frodi si scoprono così. Ricordo il caso di una coppia che aveva prenotato una vacanza a New York, telefonando all'albergo, ha scoperto che in realtà quell'albergo era chiuso da anni e quindi è riuscita ad avere indietro quanto aveva pagato. Certo, che se tu mi proponi una vacanza in un posto meraviglioso e costa 200 euro, l'offerta quando è allettante... Io ho avuto l'onore anni fa di fare con la Polizia Postale una campagna che si chiamava Buonsenso in tutti i sensi. Questo è ovviamente il faro principale da tenere acceso. Una villa Ibiza a 100 stanze, 1000 euro al mese, qualcosa hanno male. Anche lì il sole picchia duro. Come si fa a capire se un'email si è sospetto o meno? Intanto se ci arriva non richiesta. Questa è la prima delle cose che ci deve far sospettare. Se ci viene chiesto di inserire attraverso un link dati personali, dati sensibili. Le aziende serie non fanno mai così. E ugualmente anche se ci arriva da un indirizzo che noi conosciamo verificare con quello che è veramente mandato da Tiberio Timperi. Chiamiamo un attimo Tiberio e vediamo se ce l'ha mandata lui. Mappi digitali. A volte Google Map può aiutare perché... Una delle frodi più comuni è quella di arrivare all'indirizzo della casa e scoprire che ci hanno detto via Mazzini 14 e via Mazzini finisce al 13. Quindi Google Map ci aiuta. Le assicurazioni di viaggio? Esistono ormai dei prodotti che ci tutelano anche in questi casi. Per cui se io faccio un'assicurazione preventiva, ad esempio caparra data per immobili che non esistono o che sono sostanzialmente differenti da quello che ce l'ha stato detto, è possibile rientrare in possesso di quelle somme. Spesso ci sono le persone che vengono truffate, che hanno vergogna, sono restie a mostrarsi e invece c'è chi ci mette la faccia, come Valentina Spaziani ed è una testimonianza molto importante. Che cosa le è successo Valentina? Grazie per essere qui con noi. Buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Sì, allora in realtà l'anno scorso con due amici abbiamo prenotato un piccolo appartamento a Basilea e andavamo lì appunto in vacanza per visitare la città e anche per visitare una fiera internazionale che si svolge nel mese di giugno. In quell'occasione diciamo gli hotel crescono in maniera veramente esorbitante i prezzi e quindi abbiamo prenotato un piccolo appartamento su una piattaforma di prenotazioni online molto conosciuta, quindi molto accreditata. e con conferma dell'host sull'indirizzo esatto e l'orario in cui dovevamo presentarci siamo partiti in macchina e giunti alla destinazione in realtà abbiamo scoperto che al civico indicato non c'era nulla non c'era proprio il civico, non c'era l'appartamento, non c'era neanche la casa e quindi ecco come appunto diceva il signor Polo era meglio confrontarsi comunque con Google Maps vedere se effettivamente la strada fosse, avesse appunto il civico indicato ecco successivamente quindi abbiamo capito, abbiamo provato a chiamare più volte l'host che ci aveva lasciato il numero di telefono però ovviamente non rispondeva e dopo un po' abbiamo capito che comunque si trattava di una truffa e di un raggiro abbiamo provato a cercare il cognome anche nelle case vicine ma non c'era e quindi ecco a quel punto abbiamo capito che probabilmente avremmo dovuto dormire in macchina quanto è costato lo scherzetto? circa 800 euro perché noi avevamo prenotato in realtà per tre giorni e poi in realtà ecco la situazione è andata meglio del previsto perché tramite un contatto che avevo a Basilea diciamo siamo riusciti a farci ospitare da alcuni ragazzi turchi che mossi da ecco pietà e compassione ci hanno gentilmente ospitato che piace alla nostra Spaziani complimenti e l'host possiamo dire che più che un host è uno ostr... ci siamo capiti Massaro nel caso di Valentina chi bisogna denunciare il fatto? allora sicuramente nel momento in cui la trattativa avviene su una piattaforma bisogna segnalare sulla piattaforma in caso invece di trattative concluse all'esterno è necessario sporgere una denuncia presso qualsiasi ufficio di polizia quindi questa è una cosa fondamentale poi ovviamente mettersi in contatto con l'istituto di credito questa è probabilmente la prima cosa da fare per provare ad annullare l'operazione se si è ancora in tempo o comunque per bloccare la carta utilizzata soprattutto e questa è una cosa che raccomando tantissimo mai utilizzare delle carte collegate al conto corrente bancario bella prepagata e via andare una bella prepagata ricaricata col solo importo necessario a effettuare il pagamento Polo, però qui la nostra Valentina ha parlato con l'host? non è strano perché fino a che non incassa l'host parla poi sparisce, questo è il problema è uno schema che viene fatto spesso e volentieri su tantissime truffe anche quelle per gli annunci di qualunque genere o tipo dal divano al computer che sono messi online fino al momento in cui il pagamento deve essere fatto sono assolutamente raggiungibili nel momento in cui ho ricevuto il denaro arrivederci e grazie poi diventa o straniero in questo caso spesso e volentieri o straniero questo si può dire, l'altro no Massaro mi scusi, ma c'è un modo per verificare la reale identità dell'inserzionista? la reale identità dell'inserzionista? probabilmente no, però si può verificare l'attendibilità dell'inserzionista è un metodo molto semplice basta utilizzare un comune motore di ricerca e quindi verificare che non siano state pubblicate delle recensioni negative da parte di altri utenti questo è un primo indicatore e poi un'altra cosa fondamentale attraverso un comune di ricerca che consenta di effettuare una ricerca per immagini verificare che le foto dell'annuncio non siano state rubate da qualche altro sito pure questo, è vero Polo, parlando di viaggi ad esempio quando è il caso di sottoscriverne di sottoscriverne un'assicurazione? beh, fondamentalmente è assolutamente consigliato quando andiamo all'estero questo è il primo degli elementi rilevanti soprattutto se parliamo di assicurazioni viaggio omnicomprensive inclusa quindi anche l'assistenza sanitaria è indispensabile in tutte quelle nazioni dove ad esempio l'assistenza sanitaria è a pagamento perché insomma farsi mettere due punti di sutura negli Stati Uniti può costare più che una settimana anche in Austria a me è capitato di farmi male in Austria e carta di credito e peraltro i costi delle assicurazioni di viaggio sono ridicoli rispetto a quello che ti chiedono poi eventualmente in ospedale dottoressa Massaro due italiani su treno nonostante la truffa però o il tentativo decidono di non segnalare a volte lo si fa per pudore, vergogna altre volte semplicemente per pigrizia possiamo dire così in realtà denunciare è una cosa importante in primo luogo perché vi è stato un reato è stato commesso un reato poi a parte che per la truffa in sé spesso noi inseriamo in queste piattaforme nei siti clone i nostri dati personali i documenti di riconoscimento quindi è bene che si denunci per evitare che possano tra l'altro essere utilizzati in maniera fraudolenta e fanno come i salmoni poi risalgono la corrente e a quel punto sei spacciato quanti giorni abbiamo per denunciare la truffa? sono 90 giorni da quando si è avuta conoscenza del fatto che poi tra l'altro l'online diciamocelo viene utilizzato da chi ha dimestichezza e solitamente sono i giovani i diversamente giovani invece non lo utilizzano non è una consolazione però insomma anche il giovane che dovrebbe essere più furbo, più scaltro alla fine ci cade è il più truffato secondo i dati dell'indagine che citavamo prima il profilo tipico del truffato in realtà è fra i 35 e i 45 anni io penso a nostra amica Valentina che è andata a Basilea immagino alla fiera degli orologi perché a giugno credo che ci sia la fiera degli orologi no in realtà Art Basel ah vabbè comunque c'è anche quella bene Basilea è una città molto viva lei ha pagato tutto ma in caso di caparra appena sentiamo puzza di bruciato che cosa possiamo fare? Possiamo intanto avvertire subito il portale su cui abbiamo fatto la prenotazione perché come diceva la dottoressa prima è chiaramente un'azione da fare subito se abbiamo fatto l'assicurazione che dicevamo prima rientriamo in possesso di quanto detto e se necessario blocchiamo il pagamento se ancora siamo in tempo per farlo ovviamente denunciamo però questo è veramente fondamentale rinunciamo anche perché gli amici della polizia postale sono bravi e non ne lasciano scappare una arrivano arrivano tranquilli grazie a Valentina Spaziani Andrea Polo e al commissario capo polizia di Stato dottoressa Luisa Massaro pubblicità e poi di nuovo insieme con Uno Mattina Estate Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti